Sarà scoperta nel pomeriggio la lapide in via di Vittoria a Ragusa il ricordo di Giovanni Spampinato, cronista ragusano che ha pagato con la vita la ricerca della verità in provincia. Ragusa apparentemente tranquilla, nascondeva bene in realtà corruzione e malaffare. Il giovane cronista con dedizione ne denunciava la presenza. La lapide in occasione del 49esimo anniversario della morte è voluta dal fratello di Giovanni, Salvatore, e dal Movimento 24 Agosto ed Equità Territoriale. Sulla lapide è stato inciso, in memoria del giornalista Giovanni Spampinato, voce libera e coraggiosa, che per il suo tenace impegno nella ricerca della verità a soli 26 anni, la sera del 27 ottobre 1972, in questo luogo venne assassinato. Giovanni Spampinato, corrispondente a Ragusa dell'Ora di Palermo e dell'Unità, da sempre si era occupato di neofascismo e quindi dell'estrema destra. E' stato ucciso perché cercava di portare a galla la verità molto forte sui contatti tra estrema destra e criminalità organizzata. Fu quindi tra i primi a denunciare il rapporto tra mafia e politica ed erano anni difficilissimi per l'Italia. In particolare stava indagando su contatti tra neofascismo e mafia, che controllavano il traffico illecito di sigarette, armi, droga e opere d'arte. Era quasi sul punto di dimostrare inoltre i contatti tra Cambria e Tumino quando la notte del 27 ottobre del 1972 lo raggiunsero sei pallottole. A sparare fu proprio Roberto Cambria, figlio del presidente peraltro del Tribunale di Ragusa. Spampinato ne aveva denunciato i suoi contatti e la sua presunta responsabilità nell'omicidio Tumino, che dopo la morte di Spampinato rimasero comunque irrisolti e proprio l'inchiesta Tumino gli costò quindi cara la vita.